Allora ragazzi, oggi a mezzanotte esce il pezzo di Frank Gramuglia. Se non sapete chi è Frank Gramuglia, penso che comunque la maggior parte di voi lo sa, si sarà imbattuto in qualche suo video, un influencer che ha iniziato a fare video e ha spopolato video divertenti, racconta un po' la vita del lavoratore d'ufficio e anche la sua storia, nel senso che lui odia lavorare, che è un po' la storia di tutti quelli che fanno un lavoro che non amano e sono tanti purtroppo e la maggior parte delle persone odia il proprio lavoro, quindi lui ha trovato questa chiave vincente, video divertenti e adesso fa una canzone. Perché vi dico tutto questo? Oggi a mezzanotte esce il suo singolo, secondo me sarà un successo clamoroso, già è già un successo clamoroso, ieri era a Radio DJ, oggi a mezzanotte esce su Spotify, il pezzo già è un po' uscito, io l'ho ascoltato tutto, l'ho trovato anche su YouTube, qualcuno l'ha caricato e praticamente il punto è che è un personaggio che lancia una canzone e poi vi parleremo anche della canzone, però lancia una canzone che arriva subito ad un pubblico enorme, ok? Arriva subito ad un pubblico enorme grazie ai social, lui è un influencer e questa canzone è particolare, la promozione di questa canzone è avvenuta in modo molto semplice attraverso i social di questo comico artista tra virgolette e è il 2023 ragazzi, la musica si lancia così, ecco vi racconto tutto questo perché dovremmo innanzitutto riflettere su come questo pezzo, vedrete, esploderà partito dai social, su come funzionano i social, come funziona TikTok, lui ha già lanciato una challenge su un pezzettino della sua canzone con un balletto e tutti stanno ripubblicando, ricondividendo con quei 30 secondi di canzone che ha reso pubblica e già è un successo, quel video in cui appunto lanciava la challenge ha superato i 5 milioni di visualizzazioni, 5 milioni di visualizzazioni per un pezzo ora, stanotte esce su Spotify e che succede? Farà il botto, ieri era Radio DJ voi non avete bisogno, ormai è il 2023, dovremmo mettercelo in testa voi non avete bisogno di una casa discografica, non avete bisogno di playlist fake non avete bisogno di il produttore, del manager voi avete bisogno di una presenza online è questa la grande lezione, si voi mi direte, ma Michele ma quello è un comico, è facile si, ma guardate come lancia questa canzone, che successo avrà questa canzone e riflettete, si è un influencer, fa video divertenti, ha raggiunto milioni di persone poi è chiaro, fa una canzone ed esplode ok, ma ci stanno rubando il lavoro gli influencer, cosa dovremmo fare? stare fermi, ignorare questa modalità, ignorare come funziona adesso la musica la musica parte dai social, si, qualcuno mi dirà ma noi siamo artisti, siamo musicisti, non possiamo metterci a fare i cretini pure questo posso essere d'accordo, però io quello che ti dico è non sto giudicando se è una cosa giusta o sbagliata te la sto soltanto fotografando, hai un telefono in mano se inizi a fare video, e io lo spiego da, non è che mi sto svegliando oggi questa è soltanto la riprova di quello che insegno ho lanciato un corso, gavetta online, proprio per i musicisti che devono iniziare ad avere una presenza online con i video, video verticali vattelo a prendere, ok? si è una marchetta per vendere il mio corso, ma ti serve, ok? io non ho problemi a dire comprate il mio corso, ok? perché vi serve, ok? gavetta.michelemaraglino.com perché hai uno strumento tra le mani non facciamoci rubare il lavoro dagli influencer capiamo come si può lanciare un brano nel 2023 da zero, dal fondo voi iniziate, aprite una pagina su Instagram una pagina su TikTok, una pagina su YouTube il social che vi è più congeniale iniziate a fare contenuti, ma questi contenuti come spiego nel corso devono essere simpatici devono veicolare sì la vostra musica il fatto che voi siete artisti ma devono anche essere divertenti dovete sfruttare tutta una serie di cose che funzionano online che ho spiegato nel dettaglio nel mio corso gavetta online trovate i link in descrizione prendete anche musicista TikTok ecco di che cosa avete bisogno se siete a zero e non avete compreso i social prendete i miei corsi vi prendete gavetta online musicista TikTok e iniziate dal basso ad avere il controllo iniziando a pubblicare i vostri contenuti a crescere sui social a lanciare canzoni questo Frank Gramuglia farà un botto pazzesco e noi non potremmo ignorare noi musicisti non possiamo ignorare questo botto gigantesco che farà e come è nato da zero dal basso con i social cioè è chiaro il pezzo poi parliamo del pezzo il pezzo è una critica sul lavorare tanto guadagnare poco cioè è quasi è quasi un cantautore impegnato Frank Gramuglia cioè i cantautori non fanno più canzoni del genere sì è un arrangiamento credo sia stato prodotto da Dardast come sì Dante credo sia Dardast e ok uno dei produttori più importanti il pezzo sembra un pezzo degli 883 noi non ci spezziamo a questo arrangiamento è una hit ok è chiaro ma come è arrivato a tutto questo con un cellulare con un cellulare sì non faceva contenuti prettamente musicali perché è un influencer non è neanche un comico cioè sì è un comico quindi che dobbiamo fare dobbiamo abbandonare la musica e fare video stupidi e fare ragazzi non lo so che dovete fare dovete trovare la vostra chiave ci sono un sacco di artisti che stanno lavorando in questo senso che hanno molti follower e che hanno fatto video inerenti alla musica dei format come spiego nel mio corso gavetto online link in descrizione prendetelo per capirci come sfruttare il vostro cellulare invece di rincoglionirvi nel bagno a a a a così a guardare cose che poi vi fa anche male dopo dieci minuti il cellulare in bagno vi fa male alle parti basse lo dico ai maschietti che vogliono riprodursi vi consiglio di riprodurvi ho fatto questa esperienza mi sono riprodotto ho una bimba che è una cosa incredibile vabbè chiusa parentesi quindi non possiamo ignorare tutto questo farci fregare il lavoro dagli influencer dobbiamo utilizzare i mezzi che funzionano oggi ok non possiamo ancora lavorare nel passato ancora la mia etichetta arrivano richieste ho fatto questo ho fatto questo ti do l'allegato c'è la mia canzone non ce ne frega niente ora sarà un po' duro un po' brusco ma lo faccio per svegliarvi non ce ne frega niente della vostra canzone ci interessano i vostri follower questa è forte vi ha fatto male io non sto dicendo sei un bene o sei un male io sto dicendo tu vuoi vivere di musica vuoi avere una chance nella musica bene hai un'opportunità nel 2023 l'opportunità non è quell'etichetta non è quel concorso l'opportunità ce l'hai in tasca ce l'hai in tasca ed è un cellulare non ti serve ripeto non ti serve un'etichetta non ti serve un contratto non ti serve un manager non ti serve spotify basta ti serve una presenza online guardate oggi esce a mezzanotte farai il botto su spotify possiamo ignorare tutto questo secondo me no farai un botto clamoroso noi musicisti non possiamo ignorare questa strada che poi è l'unica di cui hai il controllo perché parti tu e inizi a fare contenuti costruisci la tua presenza online ripeto se non avete la minima idea di come fare ad avere una programmazione costante di contenuti ogni giorno io vi ho fatto un corso dove vi ho spiegato tutto vi ho dato degli spunti c'è anche un calendario editoriale dove vi dico il lunedì fai questo il martedì fai questo è una guida che vi guida giustamente una guida gavetta.michelemarallino.com lo trovate il link in descrizione se non andate sul sito gavetta.michelemarallino.com e prendete anche musicista tiktoker tiktok.michelemarallino.com fate la spesa questo 2023 studiate e costruite la vostra opportunità non fatevi fregare il mestiere dagli influencer ditemi nei commenti sono veramente curioso di sapere la vostra opinione cosa ne pensate di tutto questo se questi video vi piacciono siete musicisti vi ho aiutato ci sono un sacco di tutorial in questo canale iscriviti c'è anche materiale gratuito se non vuoi spendere soldi però poi guardate i miei video e poi acquista gavetta online gavetta quindi gavetta.michelemarallino.com trovi tutte le informazioni e tiktok.michelemarallino.com trovi tutte le informazioni per il corso musicista tiktoker vi aspetto dall'altra parte per tutti quelli che decideranno di comprare i corsi fatelo perché la musica passa dal vostro telefono e se non lo state facendo state veramente andando a vuoto hai mandato un'e-mail a un'etichetta inutile hai pagato una playlist per entrare inutile ti serve una presenza online gavetta.michelemarallino.com tiktok.michelemarallino.com per il resto vi aspetto nei commenti iscrivetevi al canale ci vediamo ad un prossimo video ciao